e bentornati in un nuovo video non è vero perché noi ne abbiamo smesso uno ne abbiamo ritrovato un altro così si è ma perché mi da dice che c'ho vabbè ma ho detto nella memoria esterna di mettere aspettate controllato ho messo nella memoria esterna allora questa è la cosa che ha preso al risparmio casa molla l'osso molla l'osso si tratta del nuovi ken fashionistas con un nuovo astuccio ho spuntato 350 bene è nuovo quindi si tratta del numero 163 ok e nuovi astucci nuovi nuova serie che avete visto già 3 miliardi di volte queste in plastica è riutilizzabile molto bello grande mattè così voi potete portare a spasso con voi tutte le vostre donne e in più mi è arrivato non so quanto tempo fa quel pacchettino di elix express e non volevo aprirlo in un singolo video perché è solo un completino era molto quindi ho aspettato ma si lo apriamo con lui no non c'è problema ok andiamo ad aprire lei intanto che vada ad aprire il ken numero 163 163 e io vi faccio vedere oggi la mia modella perché volevo questi vestiti li avevo presi per alissa però alissa ancora su vestita è l'ultima puntata di game master perché venerdì sera oggi cos'è oggi cos'è mercoledì giovedì venerdì sera vorrei fare una live se riesco quindi la mia modella è lei in da stancare la nostra maglietta di barbino di barbino di barbino di barbino che deve essere aggiornata pure perché la maglietta ce l'ha fatta pamela de lorenzi mitica ok allora io intanto che lei va ad aprire il ken che ci mette 3 ore io direi di andare ad aprire la bustina e vediamo cosa troviamo dentro ah io ho perso una bustina ne ho aperte due ok una bustina ne ho aperte due ok l'interno puoi anche scettarlo io nella mia bustina aspetta faccio vedere io prima intanto tu devi pantaloni similpelle neri strappo dietro un toppettino bianco con strappo dietro chi mi sta pensando non si sa strappo dietro e la giacchetta nera con il pallinato bello scintilloso ho già visto qualcosa che non va successo ho già visto qualcosa che non va oh è bucata la maglietta e vabbè dai dai sotto il braccio dai ok io vado a vestire e Alessia si e Simona vi spiega bene bene il ken per la prima volta ma non è la prima volta non è vero c'è stata anche un'altra volta ah ma sei zitta e vai allora ok allora questo ken mi sa che è l'epicinin questo vero? si ha il corpo come si dice petite si magrolino comunque sia e ha i capelli biondi vero? si occhi colore occhi allora ha il colore degli occhi su marroncine verde secondo me guarda mamma sei sei le labrone bellissimo il nasino forse il nasone il nasone e le fossettine con il sorriso guarda poi scendiamo e troviamo una felpa maglietta felpa maglietta felpa felpa si felpa di uno due tre quattro colori si di colori verde acqua blu rosso e giallo dietro c'ha il velcro dietro c'ha il velcro si apre così aspetta eh si apre così vediamo il corpo è così poi scendiamo e troviamo i pantaloncini blu a coscia si dietro anche lui c'ha il velcro oh oh dai porcelone mettiamo mettiamo su poi saliamo cioè in realtà scendiamo però vabbè questa non l'ho mai viste tu le hai mai viste? ma cosa sono? sono scarpe e calze unite esatto bianche che storia si vabbè 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 sotto un jeans sembra che c'è una tennis si fighescio così non si perdono le calzette i piedi sono vabbè sempre uguali forse no si sono sempre uguali anche se lui è più magrolino c'ha sempre il piede guarda la gamba è stacchina e poi c'è il piedone mamma mia guarda oddio fa impressione fanno vedere di lato oh la madonna no forse il piede dovevano fare un po' il piede diverso guarda bigfoot ma che cosa guarda è bigfoot guarda che roba c'è guarda che roba c'è il piedone ok vabbè dai dopo il piedone rimetti la scarpa rimettiamo la felpa ehi ciao hai finito? no vai vado a vedere i movimenti si certo aspetti ma ti muovi ma ti muovi si si cioè non amano vedere la tua forfora allora i movimenti sono uno due tre quattro cinque sei sette oh oh nove nove dieci undici dodici no la spaccata non ce l'ha fatta tredici eeeh vabbè quattro cento quanti fino a cento quindici cos'è un cavallo allora nel complesso cosa dici? ah la riga di lato guarda vabbè non l'hai detto si può dire che hai pelato con la riga di lato? ma che ne so eh? ah la rasatura si forse è quello mmmmmmmmmmmmmmmmmm cosa è successo? mi stavenendo in mente l'idea che non mi doveva venire mente sì siamo zitti con l'idea dai forza devi dire la tua finale eeeh bellissimo bellissimo quanto l'hai pagato e dove l'hai comprato 14 euro e l'ho comprato a risparmio casa avanti dai ok ho vestito mamma ho vestito lei con i vestiti ricevuti da Alex Express molto molto belli non sono costati tanto poi c'è uno sconto quindi l'ho pagato forse del 20 è morto è morto il Ken ti usa l'alito per caso mamma hai steso il Ken dopo me la voglio rivedere vorrei rimandare tagliare il pezzettino solo quando tu stai in rallentatore eeeh chuuu eeeh chuuu chuuu ecco ok allora queste aspetta zitta zitta li stanno molto bene e forse 27 centesimi perché avevo lo sconto ripeto molto molto belli e quando li ho comprato pensata lista belle anche a lei non stanno sembra motociclista la 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 bene di plastica bene amici io direi che puzza di sarnuto come si puzza di sarnuto spoglio perché allora bene amici con questo sarebbe figo siamo zitti adesso mi raccomando continuate a seguirci secondo te di che colore è quella? attivate la campanella per ricevere la notifica quando noi carichiamo i video perché a volte noi andiamo a sorpresa e quindi quando meno ve lo immaginate noi carichiamo il video se avete la campanella attiva voi verrete avvisati inoltre io pubblico sempre quando usciranno i nuovi video sia condivido sia su facebook e social e sia sulla pagina instagram barbie my life quindi perché io avevo la pagina instagram al mio nome ma non basta non c'è più quindi utilizzo solo barbie my life come pagina detto questo vi risaluto e ce ne andiamo tutti a quel paese dovremmo fare anche l'altro video delle palline ma non c'ho memoria quindi o edito un video e buonanotte così ho già il video editato o non lo so non so cosa fa bene dopo è tutto vi salutiamo e vediamo appuntamento al prossimo video mi raccomando continuate a seguirci per nuovi video e prima o poi torneranno anche i tutorial non trovo più la cosa con la caldo mai dobbiamo fare una cosa con la caldo non la trovo più mi gastronasi con i piedi del cane beh appena la troverò se no me la dovrò ricomprare cosa devo fare non riesco a mettere la scarpina e ok riuscita niente detto questo lei torna in vetrina e ciao ciao